Questo Natale sarà diverso da tutti gli altri. Le strade di Parma, senza tutte quelle persone che danno loro vita ogni giorno, sono irriconoscibili. Lo Stadio Tardini, senza i suoi tifosi su quegli spalti, non può essere veramente lo Stadio Tardini. Questo 2020 ci ha visto costretti, per il bene di tutti, a cambiare molte delle nostre abitudini. Come quella di fare una vasca in centro o mangiare in compagnia un piatto di tortelli con un buon bicchiere di vino. Respirare la città. Attraversarla. Viverla. E poi c'è la fede, quella fede che vi spinge la domenica a prendere il vostro posto, sciarpa al collo, su questi gradoni e buttare in campo, al fianco della vostra squadra, la voce, i nervi, il cuore. Il più bell'augurio che possiamo fare a tutti voi, ma anche a tutti noi, è di tornare presto alle nostre vite. Perché non sappiamo come la stiate vivendo, ma ve lo possiamo assicurare. Ci mancate, questo è il vostro posto. Speriamo quindi di tornare presto a rivederci di persona ogni domenica, di tornare ad abbracciarci, a gridare di rabbia, d'amore, di gioia, di sofferenza o un'unica frase. Forza Parma! Forza Parma! Forza Parma! Forza Parma!